Ieri sera in Comune alla Spezia si è parlato di Saturnia in una specifica commissione. Che cosa è successo? Che cosa è stato detto? Sì, ieri è partita l'inchiesta pubblica all'interno del procedimento di via per l'autorizzazione su Saturnia. Si è chiarito due cose. Una, la messa in sicurezza dei rifiuti ad oggi abancati, che sono sia rifiuti solidi urbani degli anni 80 sia delle ceneri, in particolare sono circa 30.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani e 8.000-10.000 di ceneri. Quindi messa in sicurezza per me di quello. E poi quello che avevamo discusso anche in Consiglio Comunale, cioè quello del posizionamento in quel enorme buco di terre vergine a scavo e fosse, che è la parte organica stabilizzata che esce dal trattamento dei rifiuti a salicetti. L'inchiesta pubblica è una procedura innovativa. è la prima che si fa in Liguria su una procedura di via, in quanto le altre due che ci sono state fatte, sia per quello che riguarda il piano spiaggia sia per quello che riguarda Meglia, ma sono due procedure di VAS. Quindi all'interno della via è la prima procedura, quindi è un'apertura al dibattito. Cosa è successo? È successo che ACAM, i progettisti, hanno presentato il progetto, al termine del quale ci sono state delle domande, dei chierimenti da parte del pubblico. Erano presenti sia le associazioni ambientaliste che hanno richiesto questo tipo di procedura, sia i cittadini che hanno preteso, come io dico, preteso e hanno fatto bene maggiori delucidazioni. Ora si apre l'altra fase, che è quella più della discussione. Sono stati messi anche un po' dei paletti, delle garanzie su quello che sarà poi di fatto nella sostanza la nuova Saturnia. Sì, io dico sempre questo, che noi abbiamo preso un impegno in Consiglio Comunale e nel confronto dei cittadini, quello di utilizzare quel buco per portare FOS, la frazione organica stabilizzata, e terre vergini e da scavo. Non sarà una discarica di servizio, chi dice questo dice delle falsità, sapendo di dirle, perché anche ieri è stato chiarito, quindi no discarica di servizio, ma soltanto l'apporto di questo tipo di materiale, che è una frazione organica stabilizzata e che sono le terre da cantieri che tendenzialmente saranno aperti nel nostro territorio comunale e provinciale.